Tra le tante iniziative legate al problema della sicurezza idraulica, questa è un'ulteriore occasione che i comitati ci regalano di discutere e di impegnarci ancora una volta per la sicurezza idraulica. Siamo anche vicini a una scadenza elettorale regionale e data l'importanza dell'opera dell'idrovia, auspichiamo che magari durante queste serate, in particolare quella del 15 di maggio, magari anche le forze politiche che andranno domani, che oggi si candidano e domani una di queste andrà a governare la nostra regione, ci sia un impegno importante su quest'opera che per il nostro territorio e per la nostra sicurezza è determinante. Quindi auspichiamo di avere molti cittadini, ma soprattutto anche coloro che andranno a candidarsi per impegnarsi per questa importante opera. Vi aspettiamo quindi il 15 di maggio alle 21 presso l'ex municipio al Rigoni Sterna, a Ponte Sanicro, in Piazza Liberazione. Vi aspettiamo numerosi e importante esserci perché solo insieme, solo chiedendo con gran voce, riusciremo a ottenere la realizzazione questa importantissima opera dell'idrovia Padova-Male.